Appuntamenti per martedì 20 febbraio. Il Comitato regionale Unicef Liguria propone un ciclo di incontri di formazione a carattere seminariale. A Palazzo Tursi a Genova dalle ore 15 alle 18, il modulo Le Nazioni Unite e le agenzie specializzate nel sistema ONU. Al Cinema America di Genova comincia la rassegna La Storia in piazza, primo appuntamento alle ore 16 e alle 21 con Fare Night di François Truffaut. Prosegue a Palazzo Rocca di Chiavari la mostra Caracorum del ricercatore Marcello Sanguinetti, un viaggio tra le scalate nel terzo polo glaciale della terra attraverso i cambiamenti climatici. L'ingresso è gratuito tutti i giorni dalle ore 16 alle 19. In scena al Teatro Gustavo Modena di Genova salveremo il mondo prima dell'alba di carrozzeria Orfeo, sarà il drammaturgo Gabriele Di Luca ad offrire un ritratto lucido e disilluso ma al contempo comico della realtà che ci circonda. L'orario dello spettacolo è previsto per le ore 20 e 30. L'angolo dell'arte di Recco ospita ancora le opere di Pasquale Timpanaro nell'atrio della sala polivalente Franco Lavoratori. L'evento è organizzato dalla Proloco in collaborazione con il Comune. Torna in via Niccolò Bacicalupo a Genova dopo il grande successo dello scorso anno, alla scoperta di Morricone. Il concerto spettacolo dedicato al compositore scomparso comincerà alle ore 21.